In un mondo dove l'avventura è il loro pane quotidiano, cinque coraggiosi avventurieri si alzano al di sopra della noia e si gettano in un'incredibile ricerca. Sono gli esploratori della fame, i cercatori di sapori perduti e la loro missione li porterà lontano, nel cuore del territorio che chiamano casa. Armati di curiosità e coraggio, Matilde, Elisa, Egipio, Giuseppe, Federica si lanciano in una straordinaria avventura alla ricerca dei leggendari tesori nascosti. Seguendo le tracce di un antico manoscritto, i nostri audaci esploratori si avventurano in terre selvagge e inesplorate, affrontano fitte giungle, scalano maestose montagne e solcano acque impetuose. Non si lasciano intimidire dagli ostacoli che li aspettano lungo il percorso, ma piuttosto si nutrono della sfida e della promessa di scoprire un tesoro senza uguale. Indizio dopo indizio, pista dopo pista, i nostri intrepidi avventurieri si avvicinano sempre di più al loro obiettivo. Inizio dopo indizio, pista dopo indizio, ogni passo li avvicina a un destino goloso, ad una scoperta che cambierà le loro vite per sempre. Finalmente i cinque eroi giungono al loro traguardo, i tesori sono stati ritrovati, ma la loro missione non finisce qua. dovranno presentarsi al cospetto del loro grande capo, nome in codice Nonna. E lì, di fronte a loro, si stende una tavola coperta di prelibatezze, tesori culinari che incarnano l'anima del loro amato territorio. Questo non è solo un tesoro materiale, ma una ricchezza da condividere con tutti. determinati a portare gioia e abbondanza nella loro comunità, preparano una festa senza precedenti, dove il sapore e l'amicizia si fondono in un'esplosione di felicità. Questi cinque avventurieri ci mostreranno il vero significato dell'avventura, dell'amicizia e dell'amore per la propria terra. il vero cibo dell'anima. il vero cibo dell'amore per la propria terra.